Il governo turco punta nuovamente il dito contro il PKK e l'ala militare del partito kurdo-siriano dopo l'attentato di Diyarbakir che segue la strage di Ankara. A colpire il convoglio militare provocando la morte di sei militari a bordo è stata una mina fatta detonare a distanza. Attacchi del genere contro i soldati sono stati compiuti diverse volte negli ultimi mesi nel sud-est della Turchia dopo che la scorsa estate è riesploso il conflitto con i combattenti kurdi. L'attentato è avvenuto nella località di Lige lungo una strada che congiunge Diyarbakir a Bingol. Sono 619 i membri del PKK uccisi dalle forze di sicurezza turche nella provincia sud-orientale di Sirnak. Il conflitto siriano sta ormai sconfinando nel paese di Erdogan. Le forze armate turche hanno lanciato nuovi raid aerei contro le postazioni dei militanti kurdi nel nord dell'Iraq e il leader del partito filo kurdo Selatim Demirtas denuncia un massacro nascosto a Gizere con almeno 224 civili uccisi.